L'accento non si sbaglia. Ogni parola è composta da una o più sillabe, delle quali una primeggia sulle altre, vale dire viene pronunciata in modo più intenso tramite l'elevazione del tono della voce. La sillaba su cui cade l'accento si chiama tonica. Nella lingua italiana distinguiamo cinque classi di parole a seconda della sillaba dove cade l'accento. Se l'accento cade sull'ultima sillaba parliamo di parole tronche. In tal caso la sillaba accentata viene segnata anche dall'accento grafico a cui ritorneremo. Qualche esempio? I giorni della settimana lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, alcune forme verbali del futuro semplice, andrò, farà e del passato remoto, andò, parlò. Ora tocca alla penultima sillaba. Se l'accento cade su quella, abbiamo a che fare con le parole piane. Assicuratevi di non sbagliare l'accento in parole come bambino, zerbino, lavoro, latte. Attenzione anche alle famose commedia e tragedia. Sono entrambe parole piane, dunque accento sulla penultima sillaba e nessuna ilunga alla fine. Talvolta creano confusione anche le parole sdrucciole, ovvero quelle in cui l'accento cade sulla terza sillaba, contando sempre dalla fine. Di esempi ne abbiamo a bizzeffe. Nella maggior parte dei verbi, alla terza persona plurale del presente e dell'imperfetto, accentiamo solo ed esclusivamente la terza sillaba dalla fine. Gli aggettivi che finiscono in tico o ico come simpatico, antipatico, fantastico, fanatico, telefonico, accademico, logico vengono anche accentati sulla terz'ultima sillaba. Inoltre vale la pena ricordare che quando andiamo in Italia voliamo fino a Bergamo. Chi vuole vedere la Sicilia va a Trapani. Chi invece preferisce la Sardegna si reca a Cagliari. C'è chi d'inverno va dallo psicologo. Sempre alle undici c'è chi si siede al tavolo per parlare al cinema. Chi mangia fragole pensando alla macchina nuova e chi, infine, va a comprare il prezzemolo per preparare gli spaghetti alle vongole. Alla fine della nostra lista ci sono ancora le parole bisdrucciole nelle quali l'accento cade sulla quart'ultima sillaba, quarta dalla fine. E trisdrucciole con l'accento sulla quint'ultima sillaba, quinta alla fine. Si tratta soprattutto di forme verbali all'imperativo, con i pronomi combinati. Scrivimelo, passamela, raccontamela, spiegaglielo, ordinaglielo. In italiano le parole più frequenti sono quelle piane. Incontriamo spesso anche le sdrucciole e le tronche. Le ultime due categorie sono piuttosto rare. Vi è un altro motivo per cui accentare correttamente le parole può essere cruciale. In italiano esistono diverse parole omografe, ovvero quelle che, a prima vista, scritte, sono identiche, ma si pronunciano in modo diverso e portano significati diversi. Leggere può essere un verbo, ma anche un aggettivo. E tutti sanno che leggere in italiano è piacevole, soprattutto se si tratta di riviste leggere. Capita è la terza persona singolare dell'indicativo presente del verbo capitare, mentre capita è il participio passato del femminile del verbo capire. I principi possono essere veri o falsi, ma ogni ragazza ne cerca uno, anche se ciascuna secondo principi diversi. Quando si va in Italia, si valuta se conviene cambiare valuta. Alcuni perdono la pazienza scegliendo i vestiti. Altri pazientano per avere il perdono dopo aver urlato alla moglie, Vestiti! Si voleva che il Papa Giovanni Paolo II diventasse santo subito, ma il mondo ha subito tanto prima che ciò accadesse e nel frattempo non pochi sono diventati papà. Alcune cose da ricordare. Non finisce qui. L'accento ha anche una forma grafica. Sopra la o la e si può trovare l'accento acuto o e, che indica la pronuncia chiusa della vocale. Lo troviamo in parole come perché, ne, benché. L'accento grave segnala la pronuncia aperta, e, o, e appare anche sulle altre vocali come a, u, i. Non dimenticate, la terza persona del verbo essere porta l'accento grave. E, come anche il caffè, le forme verbali del futuro e del passato remoto, i giorni della settimana e molte altre parole, come già, cioè, più, può, città. La direzione dell'accento non è per nulla casuale. L'accento grafico va messo obbligatoriamente su alcuni monosillabi per distinguerli e non confonderli con altri, che hanno lo stesso aspetto ma un significato diverso. Aguzzate la vista. Marco dà da mangiare al gatto. La pronuncia italiana pone non pochi ostacoli e, indubbiamente, l'accento è uno di questi. Non bisogna assolutamente scoraggiarsi. Con un allenamento costante lo si addomestica e lo si fa amico, perché il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. Grazie. Grazie.